Sono Alessandra Carnevali di Blogosfere, ciao Marco, la prima cosa è un complimento, io due anni fa ascoltai un provino tuo, cantavi una canzone di Anastasia in tonalità originale e ho detto che questo ragazzo arriva lontano, infatti ecco di là. Senti, una cosa, il tuo rapporto con internet, so che fai il videodiario per Yahoo e quindi mi incuriosiva, qual era il tuo rapporto con il web? Ma il mio rapporto con internet prima di XFactor era molto più forte, adesso ci sono molto meno, entro su Facebook e su MySpace per lasciare qualche messaggio comunque alle mie fan, anche perché poi in questo mese non c'è stato veramente tempo di fare niente, quindi quando ero a studio tra una registrazione e l'altra andavo su internet e lasciamo un messaggino, un saluto, comunque rispondevo. Il mio rapporto con internet è buono comunque, non credo di rifarmi un altro account Facebook. Grazie!